40 anni fa il Servizio Sanitario Nazionale ha garantito in concreto a tutti i cittadini il diritto costituzionale all'eguaglianza, in questo caso all'eguaglianza nell'accesso ai servizi sanitari, alle cure, alle terapie. Questo uguale diritto però non è sempre rispettato così che succede in Italia sempre più spesso che a seconda di dove si viva, di quale sia la propria condizione, si può di più o di meno accedere alle cure. Per evitare questo, per garantire l'eguaglianza dei cittadini, Cittadinanza Attiva ha proposto una riforma della Costituzione per inserire nell'articolo 117, per riferimento al diritto alla salute degli individui, che è necessario vista la situazione. Aderisco quindi a questa campagna e invito tutti a farlo perché per la salute e diritti di tutti.